In nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, Amen, Gesù ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti i sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi, perciò sovrana regina a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto la tua mano materna guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà finché me la scambi con la divina volontà così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo, perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria piena di grazie, il Signore è con te, tu sei la benedetta fra tutte le donne, benedetto è il frutto del tuo seno Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amén. Madre d'amor, beata pura Madre di Dio, voglio lodar, il tuo fiat voglio exaltar. da te natale, la luce e la vita, nacque l'amor. Gesù, Gesù, Gesù mio Dio, dal mondo intero il Salvatore. Conduce mio madre al suo piede, al suo insegnante a vivere nel suo divino volere. La sua volontà operando in me mi potrà cambiare. E con Gesù, in me il suo regno risolgerà. Magre d'amore, beata pura madre di Dio. Da Libro di Cielo, volume 33, 8 luglio 1935. Figlia mia, com'è bella la mamma mia. Il suo impero si stende ovunque, la sua bellezza rapisce ed incatena tutti. Non vi è essere che non pieghi le sue ginocchia per venerarla. Tale me la fece la mia divina volontà, me la fece inseparabile da me, in modo che non ci fu atto che io feci che la sovrana regina non facesse insieme con me. La potenza di quel fiat divino, pronunciato da me e da lei, che mi fece incarnare nel suo seno virginale dando vita alla mia umanità, quel fiat sempre identico, il fiat divino di mia madre, ogni qual volta io operavo aveva il diritto di fare nel mio fiat divino ciò che facevo io. Ora tu devi sapere che quando istituì il sacramento dell'Eucaristia, il suo fiat divino era insieme col mio, e insieme pronunciamo il fiat affinché il pane e il vino transustanziati fossero transustanziati nel mio corpo, sangue, anima e divinità. Ah, come nell'incarnarmi voglia il suo fiat, così lo voglia in quest'atto solenne, che dava principio alla mia vita sacramentale. Chi avrebbe avuto il cuore di mettere da parte la mamma mia in un atto in cui il mio amore sfoggiava con eccessi così esuberanti che danno dell'incredibile? Anzi, non solo fu insieme a me, ma la costitui regina della mia vita sacramentale, ed essa, con amore di vera madre mia, mi offrì il suo seno di nuovo, la sua bella anima per tenermi difeso e riparato dalle ingratitudini orrende e dai sacrileggi enormi che purtroppo avrei ricevuto in questo sacramento di amore. Figlia mia, è questo il mio scopo, che voglio che la mia volontà sia vita della creatura per tenerla insieme con me, per farla amare col mio amore, operare nelle mie opere. Insomma, è la compagnia che voglio negli atti miei, non voglio essere sola. E se ciò non fosse a che pro chiamare la creatura nella mia volontà, se io dovessi restare il Dio isolato ed essa sola, senza prendere parte alle nostre opere divine? E non solo nell'istituire il Santissimo Sacramento, ma in tutti gli atti che feci in tutto il corso della mia vita, in virtù dell'unico volere di cui eravamo animati, ciò che facevo io, lo faceva la mamma mia. Se facevo miracoli, era insieme con me ad operare il prodigio. Sentivo nella potenza della mia volontà la Sorona del Cielo, che insieme con me chiamava vita ai morti. Se soffrivo, era insieme con me a patire. Non ci fu cosa in cui non ebbi la sua compagnia, ed il suo e il mio operato fusi insieme. Era questo, il più grande onore che le dava il mio Fiat, l'inseparabilità dal suo figlio, l'unità delle sue opere e la gloria più grande che mi attestava la Vergine. Tanto che io deponevo, e lei riceveva nel suo materno cuore, il deposito delle opere fatte, gelosa di custodire anche il respiro. Questa unità di volontà e di opere accendeva tale amore tra l'uno e l'altra che era sufficiente di incendiare il mondo intero e a consumarlo di puro amore. Gesù ha fatto silenzio, ed io sono rimasta nei mari della Sorona Celeste. Ma chi può dire ciò che comprendevo? Ed il mio sommo bene Gesù ha ripreso il suo dire. Figlia mia, com'è bella la mamma mia! La sua maestà è incantevole, dinanzi alla sua santità si abbassano i cieli, le sue ricchezze sono interminabili ed incalcolabili, nessuno può dirsi simile a lei. Perciò essa è signora, madre e regina. Ma sai tu quali sono le sue ricchezze? Le anime. Ogni anima vale più di un mondo intero, nessuno entra in cielo se non per mezzo suo. Ed in virtù della sua maternità e dei suoi dolori, sicché ogni anima è una sua proprietà, perciò si può darle il nome di vera signora. Vedi dunque com'è ricca? Le sue ricchezze sono speciali, sono piene di vite parlanti, amanti, che inneggiano la celeste signora. Come madre ha i suoi figli innumerevoli e come regina avrà il suo popolo nel regno della divina volontà. Questi figli e questo popolo formeranno la sua corona più fulgida. Chi come sole e chi come stelle coroneranno il suo augusto capo, con tale bellezza da rapire tutto il cielo. Sicché i figli del regno della mia divina volontà saranno quelli che le renderanno gli onori di regina e trasformandosi in sole le formeranno la più bella corona. Perciò sospira tanto che venga questo regno, perché oltre alla sua corona fulgida con cui la corona alla Santissima Trinità aspetta la corona del suo popolo, che inneggiandolo come regina le offra la propria vita trasformata in sole come attestato di amore e di gloria. Oh, se si comprendesse che significa vivere nel mio volere, quanti segreti divini sarebbero svelati, quante scoperte farebbero del loro creatore. Perciò contenta di dimorire anziché di non vivere di mia volontà. Questo scritto è tratto dal volume 33, quindi siamo molto avanti nelle liberazioni che Gesù fece della divina volontà. Negli ultimi volumi sono anche delle pagine assolutamente straordinarie e luminosissime circa la grandezza e la bellezza della divina Maria. La sua bellezza rapisce e rincatena tutti. Dice Gesù, non vi è essere che non pieghi le sue ginocchia per venerarla. Ecco, in questo scritto si contempla anzitutto l'inseparabilità non solo nell'amore tra Gesù e Maria, ma l'inseparabilità fondata nella potenza del Fiat che rese necessariamente la Madonna, come Gesù spiega, partecipe di tutti i suoi atti, compresi quelli più strepitosi e straordinari che Gesù fece, quali le risurrezioni dei morti, ha fatto l'esempio, e addirittura l'istituzione dell'Eucaristia. Ecco, questo ci fa capire una cosa che è, tra l'altro, contenuta nell'alto di fusione, e che noi certamente viviamo nel mistero, quindi a livello sensibile non avviene, come dire, una percezione e una coscienza esplicita di questo. Ma questo non significa che non sia un fatto sommamente reale. È come quando noi facciamo la comunione, no? Quando facciamo la comunione noi non sentiamo la, come dire, sensibilmente la presenza di Gesù. A volte la comunione è intensissima, quindi si vivono dei momenti di preghiera molto profonda, ma anche in quelle circostanze, cioè noi facciamo un'esperienza della presenza di Gesù non sensibile, che è quella, diciamo, che generalmente, maggiormente ci attrae, no? Ci colpisce, perché è quella apparentemente più immediata, più evidente anche. Ma le cose più profonde avvengono nell'anima, non nei sensi. La vita nella Divina Volontà, dice Gesù, comporta una cosa, che chi opera nella Divina Volontà si trova ad essere presente in tutte le opere divine, le opere del Verbo. Questo è perché il Fiat Supremo è incessantemente in atto e in opera e la fusione, l'unione con il Fiat Supremo rende necessariamente partecipe delle opere che questo Fiat compie. È una cosa molto bella che dice Gesù, quindi dà molto gioia, perché non si trova da solo nell'operare. Se io dovessi restare il Dio isolato senza che la Cattura prendesse parte delle opere divine, e quindi di essere chiamato nella Divina Volontà vuol dire anche di essere chiamato a questo, chiamiamolo così, ministero, se vogliamo, di compagnia nei confronti di tutti gli atti di Gesù. Per esempio nell'Eucaristiana Madonna non si limitò, come dice, a concorrere con la potenza del Fiat per mezzo del quale aveva reso possibile l'incarnazione del Verbo nella natura umana, come dire, ad essere partecipe a questa nuova incarnazione nella vita sacramentale, perché la transostanziazione è una sorta di incarnazione, cioè si determina una realtà ogni volta che un sacerdote consacra del tutto peculiare, nel senso che Gesù, che prima non era presente in corpo, anima, sangue e divinità in un frammentino di pane, dopo la consacrazione lo diventa. San Francesco quando parlava dell'Eucaristia, diceva che nell'Eucaristia avviene nel giro di pochissimi secondi l'incarnazione, appena il sacerdote pronuncia le parole della consacrazione, quindi termina la consacrazione, l'immolazione, la morte in croce, quando il sacerdote alza l'ostia o il codice, o il codice, la cosiddetta elevazione, e la deposizione, la deposizione nella mangiatoia o nel sepolcro, quando il sacerdote depone, dopo l'elevazione dell'ostia sulla patena, o depone poi il calice sull'altare, dopo l'elevazione del calice. E quindi Gesù dice, ma come? Collega a concorso nel farmi diventare carne nel suo grembo, ti pare che non l'avrei fatta concorrere nella mia vita, nella costituzione della mia vita sacramentale per la prima volta? Ecco, e la Madonna non si limitò a questo, e non si limita a questo. Dice che le offre il suo seno di nuovo, e soprattutto la sua anima per tenere Gesù difeso è riparato dalle ingratitudini orrende e dai sacrilegi enormi che purtroppo avrà ricevuto in questo sacramento d'amore. Il prezzo che Gesù ha pagato, diciamo così, per istituzione dell'Eucharistia è altissimo, perché le ingratitudini orrendi e i sacrilegi enormi sono parole sue che avrebbe ricevuto in questo sacramento, sono tantissime e gravissime. ma l'amore della Madonna fin dal momento in cui l'Eucharistia fu istituita sia, come dire, messo come baluardo, come riparatore, difensore della vita eucharistica di Gesù. Diciamo non è l'atto di infusione, ma Gesù facciamo tutto insieme, fondiamoci a vicenda nella volontà e nel desiderio e nell'amore. Questo ha una valenza duplice, cioè io chiamo Gesù a fare tutto in me, quindi trasformando in divini tutti quanti gli atti che faccio, perché fatti da lui in me, questa è la vita nella divina volontà, ma c'è anche il contrario, entro in tutti gli atti che Gesù ha fatto, come se fossero miei, che sono basi di compresa la creazione del sole, la creazione del mare, la creazione delle stelle, eccetera, eccetera. E Gesù di questo si rallegrava tantissimo, dice che si compiaceva di deporre tutte le sue opere nel seno materno e che la Madonna a sua volta era gelosa di custodire anche il respiro di Gesù. Bellissimo. E si tratta di un'unità interrotta di volontà e di opere. E' una cosa meravigliosa questa vita. Ecco. L'ultima parte conclude di nuovo con una nuova attestazione dell'eccellenza e della bellezza della Madonna che da Gesù viene chiamata e con verità Signora, Madre e Regina. Questo perché ha ricchezze interminabili e incalcolabili che sono appunto i tesori di Grazia, una santità assolutamente del tutto singolare, inarrivabile, ed unica dinanzi a cui si abbassano i cieli e per la quale nessuno può dirsi simile a lei. Ecco, ma ha soprattutto dice Gesù una grande ricchezza che sono le anime. E attenzione, colui che ha detto nessuno viene al Padre se non per mezzo di me dice anche che nessuno entra in cielo se non per mezzo suo e in virtù della sua maternità e dei suoi dolori. Lo dice lo stesso Gesù. Quindi l'occupazione principale potremmo dire di Maria è la cura per le anime perché possano essere salvate. Tutte, ogni anima in quanto anima è figlia sua e quindi ha figli innumerevoli e queste grandi ricchezze che possiede sono vite parlanti e amanti certamente questa ricchezza diviene fonte di immensa gioia quando accoglie la salvezza operata da Gesù e si mette in grazia in stato appunto di salvazione e diventa evidentemente fonte di lacrime e di sofferenze immense quando disgraziatamente l'anima si sottrae alle operazioni della grazia non entra in esse e invece si pone in stato di rischio no? della propria salvezza cioè in stato di dannazione ecco ma oltre a questi figli quindi i figli della Madonna sono tutti ogni anima in quanto anima ha la sua madre signora e regina o meglio ha la sua madre signora sarebbe meglio dire quindi madre perché la tratta come l'unico fosse dei figli e signora perché ha un Gesù spiega ogni anima e sua proprietà perciò si può dare di fatto il nome di signora signora in latino e domina domina significa con lei che ha la padrona che ha il potere le anime sono di Gesù sì ma le anime sono anche di Maria questo non dimentichiamo poi c'è il titolo di regina dove trova i suoi sudditi ecco nel suo popolo e chi è il popolo di Maria Santissima sono i figli del regno della divina volontà i soli e le stelle di questo regno sappiamo benissimo che i soli sono le anime che si saranno particolarmente addentrate in questo mondo che se ne saranno particolarmente distinte saranno state veramente dei fari luminosi non solo per sé ma anche per altri le stelle sono coloro che ci sono entrati bene per carità ecco in maniera piena efficace ma non fino al punto insomma di diventare un sole ma in ogni caso essere una stella nel regno della divina volontà è in se stesso insomma cosa molto grande e è oggetto di sospiri tutto questo perché la Madonna dice Gesù ha ricevuto una corona già dal cielo che contempliamo nel quinto mistero glorioso da parte della Santissima Trinità ma ce n'è un'altra che è la corona del suo popolo che inneggiandolo come regina le offre la sua vita trasformata in sole ci sono i grandi soli ci sono i piccoli soli ma nella divina volontà è tutta luce queste anime e queste anime sono le anime che avranno rifatto avranno condotto nella vita la stessa vita della Madonna certamente non come la sua ma diciamo simile alla sua per cui ecco Gesù conclude questa sua lexio magistralis ecco su la sua madre Santissima dicendo guarda se si comprendesse che significa vivere nel mio volere quanti segreti divini sarebbero svelati no? quali sono i segreti divini svelati qui? eh il più grande è la partecipazione di chi vive nella divina volontà le opere di Gesù stesso e anche la condivisione questo per quanto riguarda la Madonna delle ricchezze di Gesù che anche per Gesù le ricchezze da lui maggiormente ambite sono le anime e quindi sono anche ricchezze di Maria Santissima perciò contenta di morire anziché di non vivere di mia volontà tutte le attenzioni e tutti quanti gli sforzi della nostra vita interiore per chi brama questo devono essere convogliati verso questo obiettivo l'attivazione di tutte le risorse interiori e poche ma anche qualcuna esteriore che serve per entrare in questo mondo devono essere espletate dall'anima che desidera entrarvi traendone questi immensi frutti perché certamente qui poi c'è un sottointeso che cosa significa che mentre io vivo partecipo alle operazioni del Fiat Supremo come se fossero mie evidente questa è un'operazione che non si può fare senza che produca degli effetti mirabili meravigliosi dentro l'anima ed ecco anche perché questo regno e questo mondo è quanto di più totalmente desiderabile e auspicabile possa esserci e possa essere stato manifestato dal Signore perché chi lo accoglie e chi realmente ci crede possa viverlo e dando gioia e adempimento e soddisfazione ai desideri ardenti di Gesù e di Maria di Maria Ecco, Sant'Argine, noi abbiamo conosciuto oggi questa mirabile tua partecipazione a questi atti divini, ecco, i supremi di Gesù, quello che produceva in te, come tu in essi cooperavi anche con il tuo cuore di Gesù, di madre innamorata di Gesù, di sua custode, riparatrice. Ecco, concedici questa grazia di poter fare sempre tutto insieme a Gesù, mantenendo ferma e costante la nostra connessione con i suoi divini voleri, perché tutta la nostra vita, nulla più della nostra vita sia umana, ma tutto divina, e possiamo essere dei piccoli soli che splendono ad immagine e imitazione del sole divino che è Gesù. Nella Divina Volontà, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, Amen, ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella Divina Volontà, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Fiat Ave Maria